Ma grande lavoro innanzitutto dei quattro assessori che non ci sono più, quindi non è una bocciatura e gli attestati di stima che loro hanno avuto significa che avevo scelto bene. Adesso è una fase nuova, siamo alla fine del mandato, il secondo mandato di Luigi De Magistris, quindi devo guardare al consolidamento dell'azione amministrativa, ma anche a una fase più politica e siccome io guardo al futuro penso ai giovani, penso alle donne, penso a chi ha dimostrato di avere voti, capacità e poi sono un uomo libero, autonomo, mi piacciono le sfide, oggi siamo più forti perché c'è più ossigeno, ossigeno politico. C'era un po' di stanca in qualcuno, c'era un po' il navigare col pilota automatico, credo che il segnale ad essere forte, qui non stiamo trascinando in qualche modo la barca verso la fine della sindacatura, ma io ho tanto entusiasmo, tanta voglia e anche dare una mano a tutta la squadra per poter poi ricontinuare a vincere anche dopo senza di me, quindi guardo effettivamente con questa operazione anche al futuro. Scusi se posso anche dire, perché credo sia importante, anche allargare il campo oltre la maggioranza, perché la scelta di Francesca Menna significa guardare anche un mondo che è un mondo altro, c'è anche un mondo che magari non ci ha votato al primo turno, con cui abbiamo tante sensibilità e affinità comuni, ma che siamo stati anche su tavoli contrapposti, quindi ecco questo significa quando io parlo di campo largo, parlo di unire sempre di più le sensibilità comuni. Lei conferenza un po' ha rivendicato la scelta in autonomia che ha fatto, se ne prese tutte le responsabilità, ma anche poi i benefici come dice lei. Le figure di Francesca Menna e dell'assessore uscente Clemente, che vi confermata con deleghe molto pesanti, possono essere in qualche modo un'investitura nella logica che dice lei del dopo dei magistrati? No, 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 qua non ci stanno indicazioni di nomi, di gruppi, di aree, di sensibilità assolutamente, anzi in questi giorni scopro che i candidati a sindaco aumentano, il che non mi può far piacere, soprattutto quando sono persone che fanno parte del nostro gruppo, della nostra squadra e della nostra esperienza. Le persone che potenzialmente saranno candidate a sindaco, ne discuteremo nei prossimi mesi, certo la data si avvicina, quindi è presumibile proprio di aspettare regionali, che anche sono un passaggio importante, insomma entriamo in una fase politica molto delicata, anche nel paese mi pare che ci sia molta instabilità, quindi ci potrebbero anche stare nei prossimi mesi non due ma tre elezioni, vediamo. Però noi ci stiamo preparando perché penso che questa esperienza è anche un laboratorio politico, ma l'obiettivo di Luigi De Magistris, anche con questo cambio fatto in queste ore, è quello di consolidare soprattutto l'azione amministrativa per attuare il programma elettorale, migliorare la città, garantire i servizi più efficienti ai cittadini e far sì che Napoli sia sempre migliore e che voli sempre più in alto e questo è l'obiettivo che mi inorgoglisce molto nel fare il sindaco di Napoli e mi responsabilizza tanto, quindi per questo ho fatto questa scelta che significa consolidare il lavoro che hanno fatto Gaeta, Marmorale, Calabrese e Daniele, ma anche migliorarlo guardando a campi più larghi, aggiustando qualcosa che non ha funzionato, quindi noi guardiamo sempre avanti, non indietro. Io ho una domanda, lei ha fatto riferimento in conferenza agli audio che sono stati diffusi sui giornali, lei a un certo punto ha detto e ha sottolineato che comunque in ogni caso è inaccettabile registrare conversazioni quando si discute di politica e mi chiedevo perché questo ha sottolineato, nel senso che lei non è contento di essere venuto a conoscenza tramite quell'audio, del fatto che nella sua maggioranza c'è gente che vive questa esperienza amministrativa in questo modo. Le mie parole, il mio comportamento anche di oggi evidenziano in maniera assolutamente precisa di come è Luigi De Magistris prima ancora che il sindaco di Napoli, quindi io voglio dire che trovo assolutamente sgradevole che si facciano degli incontri politici sapendo che ci sia qualcuno che registra, ma questa è una cosa voglio dire veramente squallida, insomma appartiene veramente a un mondo brutto e triste perché penso che le cose che uno ha da dire le deve dire in modo pubblico, che io venga poi a sapere delle cose è un fatto importante, tanto è vero che questo ha prodotto delle mie dichiarazioni, ha prodotto delle mie decisioni e se oggi abbiamo fatto questo tipo di operazione è perché evidentemente c'è stato anche quell'audio che ha prodotto quel tipo di affermazioni, però oggi ho voluto anche tenere distinto le affermazioni che ho ascoltato, dalle quali prendo le distanze senza se e senza ma, che ho un modo di fare politica che non mi appartiene, però devo anche sottolineare come dire che in questi anni quel tipo di persone ha lavorato non in linea con le parole che hanno proferito e siccome alla fine i fatti contano altrettanto come le parole, finora i fatti mi hanno detto quello, le parole sono state sgradevoli e quelle parole mi hanno portato anche a fare in qualche modo in maniera ancora più netta e in un certo modo l'operazione di rigenerazione politica che ho fatto in questi giorni, quindi ancora una volta la città deve sapere che il sindaco di Napoli, ma ancora prima Luigi Di De Magistris è persona assolutamente autonoma e libera, che non si fa condizionare da nessuno, fino anche da persone che potrebbero essere decisive come dire per la vita amministrativa e politica, perché la libertà non ha prezzo e per la libertà si può andare anche a casa Sindaco, quell'audio ha fatto cambiare alcune idee in corso d'opera nel cambio della squadra Momentaneamente sì, alcune idee le ho cambiate assolutamente Sindaco, se per capito lei ha deciso di togliere le deleghe al mondo LGBT a Marino No, 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 non è così, mi sono tolto io le deleghe Siccome loro erano delegate, avevano un incarico, che delega forse è un termine eccessivo un incarico dato dal sindaco, adesso ho voluto rafforzare, dandolo in capo a un assessore che quindi ha pieni poteri e poi io mi auguro che Simona Marino continui a collaborare con, come incaricata con Francesca Menna, perché mi sembra che le sensibilità sono le medesime così come Daniela Villani continua a collaborare con il mare, con Francesca Menna così come Flavia Sorrentino con Carmine Episcopo sull'autonomia della città anzi, siccome io mi devo occupare di tantissime cose, in questo modo avranno interlocutori ancora più stabili quindi la cosa dovrebbe funzionare ancora meglio e credo che sia il segnale importante di aver dato una delega espressa le pari opportunità, le libertà civili rafforza anche il lavoro egregio che sta facendo Simona Marino sulle pari opportunità Diceva, dato che l'elettroasparente c'erano stati anche dei problemi nella divisione di welfare di che problemi parlava, visto anche la lettera... Sì, non ha funzionato moltissimo aver diviso il sociale, anche con due sensibilità comunque abbastanza differenti questa è un'aggiunta come potete vedere, questa ma anche quella precedente in cui ci sono persone libere, persone che hanno le proprie idee e diciamo quel confronto e quella diversità di idee ha avuto anche un ricaduto in alcuni casi sul complessivo funzionamento della macchina amministrativa anche per un dirigente avere due assessori di riferimento se abbiamo provato a farla funzionare, ha funzionato perché i risultati sono raggiunti ma credo averla messa in capo ad un'unica persona, in particolare Monica Buonanno mi garantisce più speditezza, più concretezza e più rapidità di cui abbiamo molto bisogno e soprattutto il settore del sociale ha particolarmente bisogno Non ha paura però, diciamo, sia un peso gravoso per un assessore che ha già... Monica Buonanno è molto forte, molto brava Non è vero Monica Buonanno? Eh no, le persone sono... se dicevo un'altra persona avevo paura ma se è Monica Buonanno non ho paura L'ultima curiosità, Sindaco, queste scelte sono state fatte anche per rafforzare la maggioranza in Consiglio Comunale o è una cosa completamente slegata? Beh no, sono operazioni distinte Dalla maggioranza io mi aspetto una risposta netta alla mozione di sfiducia perché la giusta risposta che merita un'opposizione che finora è stata deludente e soprattutto per confermare lo straordinario lavoro che abbiamo fatto insieme in questi anni ed è per questo che ho voluto sottolineare, perché lo trovo corretto che in questi anni anche dalle persone coinvolte, diciamo, nell'audio io ho sempre avuto lealtà, ho avuto sempre persone vicine e persone tra l'altro non mi hanno mai chiesto nulla che sembra in linea poi con quelle invece audio però siccome di quell'audio non si può far finta di niente, quell'audio è stato considerato ne abbiamo preso le distanze e la scelta di oggi va nella scelta, come dire, di non tenere in conto in alcun modo degli equilibri all'interno della maggioranza per quanto riguarda il recupero di uno spirito forte di coalizione e di maggioranza ci stiamo lavorando ma in questo momento il Sindaco ha bisogno, lui, di delle risposte non è tanto il Sindaco che deve dare delle risposte perché di fronte a quello che è accaduto io mi aspetto un 22 di grande compattezza in cui la maggioranza va avanti e questo lo considero io un fatto oggettivo importante che mette a posto anche tante cose negative di cui si è parlato in questi giorni le cose rimangono ma i fatti sono importanti e poi si fa una valutazione come dire anche persona per persona, ragionamento per ragionamento insomma non nega ma fanno un processo l'importante è aver preso le distanze, oggi aver agito in questo modo la città ha un Sindaco autonomo, libero e coraggioso la maggioranza è quella che abbiamo in Consiglio la coalizione è quella e io mi auguro di poter andare con quella coalizione e con quella maggioranza fino alla fine del nostro mandato perché sono persone che sono state elette dal popolo nel progetto di Luigi De Magistris quindi dobbiamo arrivare fino alla fine In che razzo le ha scelto gli assessori? Diciamo un equilibrio interno, motivi politici? L'ho spiegato in maniera chiaro Io ho guardato soprattutto ai giovani, ho guardato alle donne ho guardato al futuro, ho guardato alla capacità amministrativa alla capacità politica, al radicamento che hanno sul territorio a persone che hanno preso voti e all'allargamento oltre i confini della nostra coalizione la nostra maggioranza e del nostro anche movimento politico tema con la scelta coraggiosa di Francesca Melli Grazie